Studenti, scuole e imprese da oggi possono contare su uno strumento unico, il Registro Nazionale per l'Alternanza Scuola-Lavoro, per sostenere il diritto degli studenti di imparare lavorando. Sei un'impresa? Iscriviti al registro e darai ai ragazzi l'opportunità di apprendere sul campo cosa serve ad un'impresa. Il Registro Nazionale per l'Alternanza, accessibile su scuolalavoro.registroimprese.it, è realizzato dalle Camere di Commercio, una garanzia di trasparenza, affidabilità e semplificazione. L'esperienza è il primo passo.